Musica Nuova puntata del format eccellenza dalla A alla Zerbi come di tradizione al lunedì mattina per analizzare tutto quello che è successo nella giornata di domenica. Si è giocata la seconda giornata di campionato con il girone A e il girone B andiamo appunto a analizzare tutto quello che è successo partendo proprio dal girone A. Guardiamo i risultati di giornata, spicca la vittoria della Varesina all'ultimo minuto sul campo dell'Ardo Rlazzate le risposte di Ponte Lambrese, Mirano City e soprattutto della Brian Solginatese dopo la sconfitta all'esordio per una classifica che vede subito la Varesina in testa da sola a quota 6 punti. Allora entriamo proprio nel dettaglio del girone A di eccellenza visto che insomma la Varesina ottiene una vittoria importante, difficile su un campo sempre particolarmente complicato come quello di Lazzate, anche se adesso è sintetico quindi sostanzialmente non ci si può più appellare a quello era l'esordio tra l'altro per il nuovo campo di Via Laratta la Varesina ottiene un successo importante 3 gol segnati e soprattutto 0 subiti come ci ha detto ieri a Stoppa Seguire Francesco Allodi di professione difensore è un dato molto importante che sottolinea come la Varesina sia particolarmente quadrata in questo avvio di campionato una Varesina quadrata lo testimoniano i numeri e che trova anche il primo gol del attaccante ecco forse se bisogna trovare proprio il pelo nell'uovo di queste prime due partite è l'apporto degli attaccanti anche se ieri appunto Alessandro Urso è stato decisivo al novantesimo una squadra che arriva anche a fine gara nonostante tutti i problemi che ci sono stati legati allo stop degli allenamenti pandemia, zone rosse insomma, la possibilità di allenarsi soltanto singolarmente una squadra che arriva al novantesimo a vincere era già successo in qualcosa di simile contro il Gavirate con il gol proprio di Allodi che aveva chiuso la partita nei minuti finali e ora il gol di Urso appunto che decide la partita da tre punti alla formazione di Marco Spilli Marco Spilli che sottolinea anche questo ai nostri microfoni ribadisco comunque lo stesso concetto oggi all'ultimo poi siamo riusciti a far gol ma fosse finita 0-0 sarebbe stato comunque un punto importante perché ci sono campi difficili dove non è così semplice venire a vincere quello che voglio rimarcare è che la mia squadra ci ha tentato fino alla fine anche alla fine eravamo lassù a cercare di far gol e questo è importante poi qualche volta saremo premiati come oggi, qualche volta no ma l'importante è esserci, provarci perché credo che se ci proviamo potrà succedere più volte di vincere anche una partita nei minuti finali che se non ci provi o rinunci affatto chiaramente non ci riuscirai quindi quello che mi è piaciuto è stato l'aspetto mentale dei miei ragazzi che hanno tentato fino all'ultimo di prendersi tre punti Spigli soddisfatto perché i suoi ragazzi non prendono gol da contraltare un'abrianza uginatese che ne segna addirittura 5-3 con il Duca Davide Pizzini alla Castanese anche qua bisognava attendersi una risposta da parte della formazione lecchese soprattutto dopo le parole decise piccate da parte del direttore generale Fabio Galbusera la risposta è arrivata nel segno appunto del Duca nel segno di una squadra che trova con facilità e con continuità la via del gol in questa seconda giornata di campionato inevitabile però che la mente vada subito al 25 aprile una liberazione da vivere sul campo visto che insomma si giocherà appunto Varesina-Ulginatese una gara che sarà decisa verosimilmente da dettagli e da episodi certo nessuno in casa Varesina si sbilancia però è inevitabile che la prima sconfitta in campionato della Brianzo-Ulginatese faccia sì che la formazione di Spilli Canzano e compagni abbiano il coltello dalla parte del manico perché inevitabilmente andare a più 6 sui diretti rivali potrebbe essere sicuramente molto 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 importante alla terza giornata in un campionato dove si giocano sostanzialmente soltanto 10 partite risposte importanti anche dal Milano City che batte 2-0 la Vergiatese Aiello e i colleghi di Varesesport si dice particolarmente soddisfatto di avere una squadra molto 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 forte dal punto di vista tecnico e difficilmente migliorabile in realtà anche lo stesso tecnico ha parlato del mercato tre giocatori dovrebbero arrivare tre potenziali titolari partendo proprio di Aiello chissà che uno non possa essere Vincenzo Imbriola difensore classe 1998 in arrivo dal sud anche in questo caso un giocatore poco conosciuto in Lombardia ma d'altronde il mercato del Milano City è stato fatto prettamente così quindi ci stiamo un pochino abituando a conoscere di volta in volta i giocatori che arriveranno a disposizione appunto di Aiello risposte doveva darle anche l'hardor lazzate andando a vedere un pochino le squadre un po' più indietro in classifica risposte che sono arrivate Roberto Bonazzi si dice comunque contento della prestazione che non ha portato punti ma che insomma ha segnato un cambio di passo rispetto alla deludente partita di Castano Primo insomma allora sentiamo il tecnico bergamasco ai nostri microfoni ma questo è il bello del calcio è il brutto in un'occasione fatta male perché lì ci siamo comportati male mi ha fatto passare questa palla e ci hanno fatto gol però insomma sia domenica scorsa ero preoccupato e anche un po' dell'uso della prestazione di Castano oggi devo dire fare complimenti ai ragazzi perché sono stati molto bravi ci sono giocata alla pari contro la Varesina e abbiamo avuto le occasioni migliori anche per vincere la partita però direi che è un campionato equilibrato e dobbiamo sistemarci nel più tempo possibile perché la squadra è competitiva Facciamo un salto anche nel girone B di eccellenza anche qui guardando risultati e classifica spicca il bis della città di San Giuliano 3 a 1 al club Milano importanti le vittorie di Pavia e Varsi quest'ultimo cala il poker sul campo del San Colombano e l'alcione supera nettamente il settimo per una classifica che vede anche in questo caso una sola là davanti a tutti è la città di San Giuliano 6 punti in due partite insomma un inizio molto 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 convincente per i ragazzi di Papa che stavolta si godono il miglior grasso e soprattutto conquistano un'altra vittoria importante perché se è vero che il 3 a 1 al settimo aveva permesso di cominciare nel migliore dei modi il nuovo format è altrettanto vero che il club Milano era avversario completamente differente e quindi la vittoria vale a un peso specifico ancora più alto e insomma permette ai giallo-verdi di alzare l'asticella è importante la vittoria anche del Pavia sul Sant'Angelo Sant'Angelo aveva il suo debutto parte male con una sconfitta al Fortunati Pavia che vince nel segno di Stanislav Bajrov che insomma nel mercato invernale o meglio in questo di riparazione prima dell'inizio del nuovo format era stato anche vicino alla Vogherese che invece si conferma giocatore decisivo per il Pavia insomma l'attaccante classe 1998 ex Grumellese tra le altre è uno dei punti di forza sicuramente di questo Pavia e permette alla formazione bianco-blu di trovare la prima vittoria in campionato trova la prima vittoria in campionato anche l'Alcione 4-0 in casa contro il settimo ecco anche qua Omar Albertini si aspettava una risposta in settimana sono anche arrivati gli attaccanti uno su rigore peraltro già segnato Salzano insomma l'asticella è stata ancora alzata probabilmente la rosa completata bisognerà capire soltanto se effettivamente il settimo è un avversario che permette di dare in questo format dei giudizi reali su chi lo affronta oppure se insomma la vittoria dell'Alcione va un pochino soppesata ecco diciamo così lo scopriremo settimana prossima dove riposerà il Pavia e dove tornerà in campo la Vogherese sul campo del settimo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.